Molti genitori in questo periodo di quarantena covid hanno sentito dai loro figli pronunciare la fatidica frase quando potrò tornare all'asilo? La domanda purtroppo ad oggi non ha una risposta sia per gli istituti pubblici che ancor di più per quelli privati paritari. Sono tanti i fattori che pregiudicano la ripartenza del settore a partire dalla sua delicatezza per arrivare all'incertezza economica. Infatti molte strutture private per lo più società che per rispettare i dettami della legge regionale 76 del 2000 hanno più di 10 dipendenti tra educatori personale ausiliario e di segreteria rischiano concretamente la chiusura stretti come sono ora tra le spese da sostenere e di mancati introiti delle rette. Regione Abruzzo con il disegno di legge regionale 118 presentato dalla maggioranza di centrodestra sta cercando di dare una risposta al settore spesso stampella fondamentale del pubblico nel garantire il servizio educativo in età prescolare tra i 0 e i 6 anni. Nella legge è stato previsto un contributo di 2000 euro a copertura delle spese del periodo marzo-giugno 2020 però per le strutture sotto i 10 dipendenti il che dunque escluderebbe la maggior parte di quelli operanti in Abruzzo. Dopo l'audizione di lunedì scorso in commissione il consigliere regionale del partito democratico Antonio Blasioli ha annunciato che saranno presentati emendamenti per correggere il testo. L'articolo 2 di questa legge si riferisce alle piccole e micro imprese quindi fino a 10 dipendenti ma tutti questi asili questi nidi eccetera se rispettano la normativa regionale la 66 del 2000 hanno tutte più di 10 dipendenti e poi naturalmente anche per allargare questa forchetta economica che di 2000 euro è sinceramente briciole rispetto alle perdite che hanno avuto. Ricordiamo che sono nidi di infanzia in cui i bambini non versano più le rette non le versano più dal mese di marzo e probabilmente non le verseranno fino ad agosto e quindi naturalmente ci sono dei costi fissi a cui queste strutture devono far fronte. Ecco perché noi presenteremo come partito democratico degli emendamenti correttivi e in maniera propositiva a questo progetto di legge. Correzioni che ha chiesto anche la federazione italiana nidi e scuole di infanzia finesi che ha illustrato alla commissione nel corso dell'audizione le proposte migliorative per cercare di salvaguardare il futuro delle strutture. È ovvio che nei momenti in cui noi non ci siamo e non chiudiamo i bambini dove andranno dopo? Sì ci saranno i bonus per le babysitter ma per quanto tempo? Quanto durerà? Come funziona? Farà bene al bambino vivere con la babysitter senza confrontarsi con un proprio pari? E pertanto ci sono tante cose dietro a questa situazione piuttosto problematica. Voi non avete a disposizione dei numeri precisi, una statistica precisa rispetto alle strutture, manca cioè un osservatorio regionale sulle necessità della fascia di età fra gli 0 e i 6 anni, è così? È giusto? Sì, è una contestazione amorevole che ho fatto perché è bene poter avere dei numeri perché giustamente la Giunta riuscirebbe a lavorare in maniera più chiara e concreta nel momento in cui ha in mano reali dati e attraverso quei dati si possono muovere attraverso i fondi che hanno a disposizione per dare risposte precise. È giusto che la Giunta abbia non solo il numero dei nidi di infanzia, delle scuole dell'infanzia, nonché i centri gioco, i centri domiciliari che fanno parte tutti della legge 76 del 2000.